Va bene, allora, vediamo la parte di slide di a tono armata di Pink Floyd. Cominci con un B minore al dodicesimo tasto, partendo dal terzo. Vai a La minore più da tasto. Da qui. Vai a Solo. Si minore. Sol diesis. Riprendo questa parte. E' solo la parte. E' solo la parte. E' solo la parte.